Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Dentro la Notizia, il contenitore di attualità di Teleponte ed Econews.it. Questa sera è con noi il direttore sanitario dell'ASL di Teramo, Maurizio Brucchi. Buonasera a tutti. Buonasera e ben trovato. Allora, col direttore sanitario dell'ASL di Teramo non possiamo non parlare ovviamente dell'emergenza coronavirus e cercheremo anche di analizzare anche la questione degli imminenti screening anti-covid che dovranno partire questa settimana, si spera tra giovedì e venerdì. Ieri una conferenza stampa proprio al secondo lotto dell'ospedale di Teramo, una conferenza stampa dove poi si è introdotto la materia, però insomma c'è ancora molto da fare, ci sembra di aver capito a livello di organizzazione e da capire anche come saranno strutturate, poi dove saranno strutturati, dove si faranno questi test. Ma con il direttore sanitario partiamo innanzitutto dai casi di oggi, 312, 80 nel Teramano, 312 complessivamente nuovi in Abruzzo, un po' di più rispetto a ieri, però si veniva dalla domenica. Come si devono analizzare questi dati? Perché su Teramo ci sembra che stiano scendendo, per esempio. I dati indicano ora al netto di qualche giornata in cui il dato è altalenante, i dati stanno scendendo, i ricoveri sono anche in diminuzione, anche se noi su ricoveri in questo momento diciamo manteniamo più o meno un dato abbastanza costante negli ultimi giorni, questo è dovuto al fatto che abbiamo ricoverato diverse pazienti delle case di riposo, diversi ospiti delle case di riposo che hanno visto, diciamo così come di aggravarsi le proprie situazioni e quindi sia già nella giornata di sabato, tra sabato e domenica abbiamo ricoverato circa 10 persone, per cui questo diciamo ci fa sì che il dato dei ricoveri si mantiene più o meno costante, però in effetti i ricoveri diciamo al netto delle case di riposo sono in leggera diminuzione. Quello che non diminuisce sono invece i posti di animazione, perché noi abbiamo 5 pazienti ad altri, 13 a Teramo e 4 a Giulianova e questo è un dato che si è mantenuto un po' costante nell'ultima settimana, perché una volta che poi il paziente va di animazione insomma c'è bisogno di diversi giorni perché magari ne possa uscire guarito e quindi questo è l'unico dato diciamo che si mantiene costante. Abbiamo oggettivamente il problema delle case di riposo perché queste strutture non sono strutture adeguate diciamo anche a clari percorsi sia da parte del personale che ci lavora e anche da parte degli anziani che molte volte si trovano anche in più di una persona nella stessa stanza, allora se parte il contagio poi come dite diventa difficile frenarlo. è partita Civitella, poi ha fatto seguito Villalù dove 18 persone su 18 erano positive, poi Nereto e adesso qualche caso sporadico diciamo qua e là. Noi nel frattempo abbiamo attivato l'hotel Covid che è l'hotel Europa di Giulianova all'hotel Covid vanno quelle persone che sono dimissibili, quindi potrebbero andare a casa che però non vanno a casa perché magari sono ancora positivi e quindi a casa la famiglia non li può accogliere, insomma sono delle situazioni oggettive soprattutto di tipo logistico per cui li ospitiamo in questi hotel dove sono accolti con un trattamento da hotel dove ogni tanto c'è anche un medico che comunque è presente e adesso abbiamo già da qualche giorno funziona il comitato, ci sono già quattro persone che sono ospiti e poi abbiamo invece diciamo aperto una nuova struttura presso Cerni di Pineto dove ospitiamo quelle persone che non possono stare per esempio nell'RNA o nell'RSA, sono pazienti per lo più asintomatici però dobbiamo diciamo come dire portarli via dalla struttura perché la struttura non è in grado di garantire diciamo un isolamento e quindi a questo punto abbiamo aperto questa nuova struttura dove ci sono adesso 18 pazienti, però ecco insomma il dato per noi, il dato del ricovero non è un dato preoccupante perché abbiamo comunque una riserva di posti, posti ne abbiamo, non ci sono problemi, che preoccupavano la terapia intensiva all'inizio, infatti però noi diciamo abbiamo attuato una strategia che è stata questa, cioè di non farci trovare impreparati dal Covid e quindi dopo Teramo, Atri abbiamo preparato Giulianova e Giulianova l'abbiamo aperto, ci sono cinque posti letto, adesso ne utilizziamo quattro, Teramo abbiamo ancora un piccolo marge da attivare e quindi diciamo che sulle terapie intensive il margine cese eppure non è larghissimo. Anche Pescara poi? Qualche paziente l'abbiamo mandato a Pescara, uno a Sulmona, insomma ecco diciamo con Pescara riusciamo bene a colloquiare da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda i posti di animazione, però insomma ecco noi abbiamo ancora a Teramo qualche poco, ancora qualche posto da poter attivare, il problema è sempre lo stesso, il personale medico ed infermieristico che anche per quanto riguarda le animazioni è carente. Voglio sottolineare che a fronte di questo noi continuiamo a garantire un'attività operatoria e di ricovero non covid, questo è molto importante. Ecco l'ospedale continua a lavorare su altro, non c'è solo il coronavirus. Assolutamente, perché non si muore di solo covid, ma tutto diciamo il comparto cardiochirurgico si continua ad operare fra interventi di cardiochirurgia, così anche in sala operatoria le patologie oncologiche vengono sottoposte all'intervento. È chiaro che le patologie di elezioni, i tripunerni o la colegisti vengono rinviate, però tutto ciò che è urgente e comunque salva vita, in particolare le patologie oncologiche hanno la possibilità di essere trattate sia a Teramo che a Sant'Omero, questo è molto importante. Sant'Omero che per il momento è tutelato in questo senso perché non è ospedale, non ha reparti covid, in questo momento è l'unico ospedale nella provincia che non ha reparti Sant'Omero per scelta dell'unità di crisi è stata lasciata così libera da covid, c'è il pronto soccorso che ha dei posti di obi covid e poi accoglie il paziente che arriva e questa è un'altra cosa importante che noi abbiamo fatto, noi abbiamo dotato il pronto soccorso di posti che si chiamano obi covid, cioè sono dei posti dedicati e adesso a Teramo ne abbiamo aperti altri sei, poi ce ne sono cinque a Sant'Omero, cinque a Giulianova e ce ne sono cinque ad altri ma che adesso aumenteranno, perché è importante, perché questo diciamo evita quella cosa molto brutta che è quella di tenere il paziente nell'ambulanza fuori all'aspettare il ricovero, invece il paziente viene messo in questi posti letto, sono posti letto che hanno diciamo le caratteristiche per ospitare i pazienti sospetti covid o sospetti covid e lì vengono stabilizzati, vengono monitorati e poi si decide dopo aver fatto alcuni accertamenti se essere ricoverati o meno e questo ci dà un grande respiro e c'è una possibilità anche di gestire bene poi i posti letto nel ricovero e questo devo dire che è una delle cose, noi siamo partiti per prima in questo senso, poi anche le altre province ci hanno seguito. Come ASL, l'ASLitero è partita per prima? L'ASLitero è partita per prima e questo diciamo ci dà un grande respiro, una possibilità davvero di poter gestire bene poi i ricoveri, quindi Sant'Omero l'abbiamo lasciato come dire libero dal covid anche se è pronta un'ala che abbiamo già liberato, pronta ad accogliere eventuali pazienti se ce ne dovesse essere la necessità. C'è sempre il piano B, anche perché ci sembra di capire, rispetto anche col manager quando venne qui l'ultima volta, perché l'abbiamo avuto, l'abbiamo intervistato diverse volte in questi mesi, anche nella scorsa ondata di marzo, è che adesso gli ospedali siano strutturati, ci sia un'organizzazione diversa rispetto a quanto si era partiti a marzo? Assolutamente è una situazione completamente diversa, adesso ci si è preparati meglio, nei nostri ospedali sono attivi, quasi in tutte le parti sono attivi i percorsi, in alcuni li abbiamo approntati recentemente e ovviamente ci siamo fatti trovare più pronti, io devo dire che il dottor Di Giosia ha fatto un grandissimo lavoro, io sono arrivato da poco tempo, però il dottor Di Giosia aveva fatto davvero un grandissimo lavoro nella gestione del covid e devo dire che noi ce la siamo cavata bene rispetto a tanti altri territori, pur avendo numeri importanti, perché dopo l'Aquila ci siamo noi come numero di contagi, però devo dire che ce la siamo cavata bene, ripeto, grazie al grande lavoro del dottor Di Giosia, io ho trovato un lavoro già fatto, ho proseguito su quella linea e ci ho messo anche un po' del mio, ma come è giusto che sia, però ecco io sono soddisfatto, devo dire che il personale è fantastico, dai medici agli ossi, gli infermieri, tutto il personale che è impegnato nel covid e anche quello che non è impegnato nel covid perché fa altro, ma permette all'ospedale di mantenersi in vita. Come sgrave il lavoro di un direttore generale, il direttore sanitario? Perché molti anche si chiedono, cosa fa il direttore sanitario? Lo stiamo spiegando al cittadino, all'uomo della strada. Il direttore sanitario si occupa di tutto ciò che è sanità, tutto ciò che quindi è sanità, diciamo l'attività la svolge il direttore sanitario, ovviamente sotto la guida diciamo anche del direttore generale che seppure non è un medico ma comunque conosce gli aspetti sanitari, perché è chiaro che tutte le competenze del direttore sanitario riguardano la gestione dei posti letto, in questo caso del covid, tutto ciò che riguarda la funzionalità da un punto di vista sanitario di un ospedale e del territorio tocca al direttore sanitario. Devo dire che anche sul territorio abbiamo fatto un ottimo lavoro perché vorrei ricordare a me stesso, ma lo dico anche un po' come memoria storica, che in passato in Italia si è troppo tralasciato il territorio, non poi ce ne siamo accorti adesso col covid dell'importanza del territorio, però devo dire che il nostro territorio ha reagito bene, a partenza, a partire dai medici di famiglia che si sono dati, sono stati molto disponibili. Ma dicate le critiche, qualche critica se la sono presa? Vabbè, allora criticare è sempre facile, però poi fare è un po' più difficile perché insomma poi oggi, mentre venivo qui ho sentito che oggi è morto un altro medico, un medico di famiglia sempre per il covid, quindi voglio dire che esiste anche questo aspetto che non è da trascurare insomma il rischio e anche qualche volta la paura. Dicevo però sul territorio abbiamo fatto un bel lavoro perché noi abbiamo innanzitutto è partito adesso direi quasi al 100% tutta l'attività che riguarda il tracciamento, che riguarda il... Ecco, che era un po' sfuggita di mano forse, che è accaduto nelle scorse settimane che adesso si sta recuperando. Non era sfuggita di mano, noi paghiamo diciamo una fase che c'è stato un po' di blackout che adesso non è più importante dire e poi per recuperare abbiamo messo, abbiamo avanti bene, è chiaro che parliamo sempre di grandissimi numeri e quindi anche l'attività di tracciamento su un positivo, tutti i contatti, diventa difficile tracciarli tutti, ecco perché è importante lo screening che faremo nei prossimi giorni, però adesso diciamo noi abbiamo attivato sei USCA, sette la settimana scorsa per le case di riposo, quindi proprio un'USCA dedicata con quattro medici che sono dedicati alle case di riposo, c'è stato e c'è il problema del riprendimento dei medici, molti medici sono medici neoreati, neospecializzati, specializzati al quarto o quinto anno, abbiamo dovuto prendere tutto ciò che diciamo c'era sul territorio da un punto di vista sanitario perché c'era bisogno, però adesso con le USCA qui che verranno dotate in questi giorni di un ecografo che ci è stato dato dalla regione, abbiamo attivato la telemedicina, cioè tutta una serie di anche innovazioni tecnologiche che permettono al medico dell'USCA di quando va a casa del paziente di diagnosticare la patologia e poi seguirla nel tempo, ripeto qualche sbavatura c'è perché poi c'è qualcuno giustamente a ragione, io lo capisco, anche sul discorso dei tamponi c'è qualcuno che resta un po' indietro, però noi facciamo oltre 1.000 e 1.500 tamponi al giorno, è possibile che qualcuno resti indietro e che qualcuno magari come dire aspetta un po' troppo per fare il tampone, questo è possibile, non lo neghiamo, però vi assicuro io che ho a che fare tutti i giorni insieme al dottor Di Giuseppe e al dottor Santarelli con l'organizzazione vi assicuro che non è facile e vi dico anche che Teramo, questo territorio, io partecipo sempre diciamo ad incontri con le altre direzioni sanitarie, noi ce la siamo cavata bene perché abbiamo fatto, come dire, abbiamo utilizzato quello che era successo a Marto come memoria e poi oggi devo dire che fra l'ospedale dove abbiamo una situazione che ci fa dormire la notte anche se con un occhio aperto perché così bisogna essere e sul territorio abbiamo fatto i grossi passavanti, c'è sempre da migliorare, ci troviamo anche di confronto di una malattia molto strana, basta pensare che ci sono casi in famiglia dove si positivizza un elemento della famiglia e gli altri invece non restano negativi seppure a contatto invece in altre situazioni, neanche asintomatici, neanche asintomatici, perché è una cosa abbastanza strana, la spiegazione sembrerebbe essere nella virulenza del RNA, la virulenza del virus, quindi la risposta delle difese immunitarie praticamente. Potrebbe anche essere questo, ripeto ora su questo io non faccio l'epidemiologo e neanche l'infettivologo, però insomma ecco questo accade, però a oggi devo dire che stiamo nella fase, diciamo stiamo tirando piano piano, stiamo uscendo un po' da Esatto, Teramo aveva avuto questa ridudescenza dei casi insieme all'Aquila, adesso anche l'Aquila oggi più 43 casi rispetto ai casi gratanti delle scorse settimane, anche Teramo sta scendendo, stanno salendo le altre province, insomma questo perché accade? Poi noi abbiamo avuto le case di riposo, come ha detto prima. Ma il virus si sposta, si sposta con l'uomo e quindi era già previsto per esempio dall'osservatorio regionale qualche settimana fa che ci sarebbe stato un aumento dei casi sulla costa e nel Pescarese, questo è già diciamo oggi prevedibile attraverso esattamente, negli studi epidemiologici si può capire che cosa sta succedendo e quindi sì, adesso diciamo un po' nel Pescarese, però tutto sommato guardiamo i dati regionali, c'è una tendenza o alla stabilizzazione o al miglioramento. Il lockdown sicuramente... Esatto, le misure restrittive adottate sono servite. Il virus cammina con la persona, se la persona è ferma il virus è fermo, se la persona cammina il virus cammina, quindi bisogna adottare i sistemi di protezione e se bisogna stare a casa stiamo a casa. Assolutamente, ecco si parlava degli screening di questi test di massa che sono già partiti all'Aquila, hanno avuto anche una tempistica abbastanza lunga, oltre due settimane, avremmo la stessa tempistica in provincia di Teramo, partiranno tra giovedì e venerdì come è detto, a cosa servono e soprattutto a chi sono dedicati, perché c'è molta confusione... Allora, su questo io partirei chi è che non prende parte al programma di screening, perché non voglio sbagliare, per cui leggo, perché questo è molto importante... Assolutamente importantissimo. Allora, non deve partecipare al programma di screening, poi spiegheremo bene che cos'è e perché bisogna farlo, a chiunque abbia sintomi che indicano un'infezione da Covid-19, cioè chi ha qualche sintomo che potrebbe far pensare al Covid-19 e non è solo la febbre, ma per esempio la perdita del gusto, la perdita dell'olfatto, il mal di gola, la tosse, non deve partecipare, chiunque abbia una malattia per qualsiasi altro motivo non deve partecipare, chi ha fatto un tampone recentemente in attesa di risposta o chi ha programmato un tampone nei giorni successivi, è inutile che fa il test rapido, non ha senso, chi sia ovviamente in isolamento, in quarantena non deve fare il test rapido, i bambini sotto i sei anni non devono fare il test rapido, quelli che sono nelle case di cura non devono fare il test rapido e gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening dalla ASL, quindi queste sono le categorie di persone che non devono fare lo screening. Perché lo screening? Oggi uno dei problemi di questa malattia per cui poi ci ritroviamo che di colpa dalla mattina alla sera uno si trova positivo, sono i cosiddetti positivi asintomatici. Che potremmo essere tutti? Potenzialmente potremmo essere tutti, io direi di no perché ho avuto il virus, quindi sono immune, quindi io sono uno di quelli che grazie a Dio l'ha avuto, a questo punto dico così, no scherzo, però voglio dire, di fatto è così, però gli positivi asintomatici sono quelli che dobbiamo scovare. Perché i cittadini devono partecipare allo screening? Innanzitutto perché è giusto che lo si faccia anche da un punto di vista sociale e del rispetto dell'altra persona. Perché se io sono positivo asintomatico lo devo sapere, devo stare a casa, perché sennò svolgo quella funzione di untore che non è simpatico per se stesso e per gli altri. Quindi il primo aspetto, che poi è quello centrale, cioè andare a trovare quelle persone, e ce ne sono perché all'Aquila, insomma sono stati circa, non mi ricordo, 203-240, una percentuale che va dallo 0,5 all'1% più o meno. E quindi ci sono questi positivi asintomatici e trovare questi positivi considerando, come dicevo prima, che da un positivo si possono sviluppare decine, centinaia di contatti, se non migliaia, perché dipende da cosa fa questa persona anche nella vita, che lavoro svolge. Esatto. E quindi diventa fondamentale. La possibilità anche lì. E certo, se penso ad un agente di commercio che va in giro e va a fare il suo lavoro, immaginiamo quante persone incontra. Quindi ecco perché è importante partecipare. Non bisogna avere paura perché sentivo in questi giorni, ah ma se poi sono positivo vado in isolamento 10 giorni. Eh sì, sì, si vado in isolamento 10 giorni. Ecco, fa il test, esatto. E poi se trovano... Funziona così, diciamo. Il cittadino aderisce al test e poi ci sono tanti modi di aderire, stampandosi il formato per l'adesione sul sito del comune, sul sito dell'ASA. Ecco, dove si troveranno questi modi? Allora, questa organizzazione dipende fondamentalmente dai comuni. Noi siamo da supporto perché il comune attraverso la protezione civile devono organizzarsi da questo punto di vista, devono organizzare i luoghi, la logistica, quindi dove si farà lo screening e devono organizzare anche su quattro postazioni due postazioni, che sono quella dell'accoglienza, del ricevimento del cittadino e della sua, diciamo come dire, della sua iscrizione allo screening. Poi c'è l'ultima postazione invece dove si devono registrare dei dati che poi vanno comunicati alla regione e alla protezione civile. le due postazioni in mezzo toccano alla ASL, che sono quella dell'effettuazione del tampone e poi della lavorazione del risultato. Perché il risultato arriva subito poi, tra l'altro. Il risultato arriva, dipende dal tipo di tampone, va dai 3 ai 15 minuti massimo, dipende dal tipo di tampone antigene. È chiaro che noi abbiamo scelto che poi entro tre ore, per le tre ore successivi il cittadino deve stare a casa. Il cittadino, per spiegare, va in queste postazioni. Facciamo un esempio. Facciamo un esempio pratico. Parliamo di Teramo e parliamo del drive-in. Perché si potranno utilizzare anche i drive-in. Per cui il cittadino arriva con la macchina, viene registrato, viene accettato, passa al punto successivo, gli viene fatto il tampone, viene eletto e il cittadino va via. Se ne può andare. Ah, se ne può andare subito? Sì, ha finito, se ne va. Ma se è positivo? Entro tre ore, diciamo, se entro tre ore il cittadino non riceve nessuna comunicazione, è libero. Quindi vuol dire che è negativo. Se noi invece vediamo che è positivo, il cittadino verrà richiamato immediatamente, perché noi abbiamo il suo cellulare e il suo numero di telefono e verrà disposto dal Siesp la quarantena l'isolamento. Nei giorni successivi, ora su questo stiamo lavorando ancora qualche giorno per capire se possiamo fare ancora prima, del giorno successivo, gli verrà prenotato un tampone molecolare, perché c'è bisogno sempre del tampone classico, del riscontro, del tampone molecolare. Perché il tampone antigenico rapido è un tampone che non dà falsi negativi, ma il positivo va confermato. Quindi il negativo dopo tre ore è libero, il positivo gli verrà comunicato subito, viene messo in isolamento dal Siesp e poi gli viene prenotato da noi, sarà la stessa che gli prenoterà nell'immediatezza o al giorno successivo un tampone molecolare. Quindi il cittadino deve, diciamo, la sua attività in che cosa si vuole? Innanzitutto aderire allo screening, è una mia raccomandazione. Ricordiamo che non è obbligatorio. È volontario. È di natura volontaria, però, insomma, ma l'ho spiegato prima. Ma bisogna farlo, guardate, bisogna farlo. Ve lo dice uno che il Covid l'ha avuto e quindi guardate la mia esperienza. Io il Covid l'ha avuto, grazie a Dio, sono stato fortunato, non sono fra quelli che è stato ricoverato, però qualche sera, insomma, anche io avevo la mia desaturazione, respiravo non benissimo. E allora, se uno sa di essere positivo, seppur asintomatico, deve pensare a stesso stesso perché quella asintomaticità non è detto che è duri. Può trasformarsi in malattia perché poi si dicono che gli asintomatici non sono malati. Non è vero. Tu puoi essere asintomatico oggi e poi nei giorni successivi sviluppare la malattia. Secondo, dobbiamo pensare anche alla società e non fungere da un tori, perché noi magari restiamo asintomatici, ma c'è la persona che ha una patologia associata, tipo il diabete o la pressione alta o l'obesità che se prende il coronavirus può rischiare e può rischiare anche tanto. Ecco perché allora bisogna dire il mio invito veramente, è aderite, non c'è da aver paura. Il tampone è un tampone molto semplice, non dà fastidio, verrà fatto da personale sanitario, esperto. Ecco, voi avete, come abbiamo visto ieri poi nella conferenza stampa, tra l'altro c'erano anche gli ordini professionali presenti, ci sono anche l'ordine dei veterinari che mi avete messo in campo, per dire, i biologi. Io ringrazio gli ordini tutti, perché ieri il direttore di Giosia lo ha fatto benissimo, anche facendo una foto con tutti gli ordini, per far capire anche come ci sia un lavoro di squadra dietro. Gli ordini hanno già nella giornata di sabato inviato una lettera ai propri scritti, già stanno raccogliendo le adesioni su base volontaria, al di fuori dell'ora di servizio si può fare, perché noi poi dovremo individuare tra queste figure quello che fa il tampone e quello che lo processa, cioè quello che lo legge. I veterinari non potranno fare il tampone perché c'è stata tutta una polemica anche nel Veneto con Zaia, però l'ordine dei veterinari invece ha derito di aderire magari svolgendo altre funzioni, quello per esempio di processare il tampone. Quindi io ringrazio, tutti gli ordini, i medici, i biologi, i veterinari, i tecnici, gli infermieri, davvero tutti ieri erano presenti, si stanno dando davvero tanto da fare perché abbiamo bisogno di numeri importanti. Ecco, mi sembra di capire che la mola organizzativa sia veramente enorme. Beh sì, insomma c'è da fare molto, soprattutto i sindaci insieme alla protezione civile devono scegliere dove fare i tamponi, quindi anche la scelta, e deve essere anche una scelta razionale, nel senso che bisogna evitare assembramenti, questo è fondamentale, quindi lo dice ovviamente l'ordinanza del Presidente Marsilio, e quindi bisogna evitare assembramenti, e quindi evitare assembramenti vuol dire mettere più punti distribuiti sul territorio. Si possono utilizzare palestre, si possono utilizzare discoteche. Si è anche capito che poi soprattutto si privilegierà all'inizio anche le scuole, i luoghi pubblici? Sì, diciamo le palestre delle scuole più che le scuole, perché poi diciamo devono essere spazi ampi, e lì poi ogni sindaco si organizzerà come meglio ritiene opportuno, noi diciamo non abbiamo, non entriamo in questo aspetto specifico, seppure possiamo dare dei consigli che ci vengono richiesti, i sindaci si organizzano in questo senso e poi noi mettiamo, arriveranno i tamponi rapidi dalla protezione civile della Regione, fornirà i tamponi anche tutti i dpi, perché bisogna proteggersi, anche per chi fa questo tipo di attività, e quindi poi si partirà, io credo che fra giovedì e venerdì riusciamo sicuramente a partire, anche su questo abbiamo fatto una scelta oggettiva, perché adesso i sindaci scalpitano e vogliono partire. Ognuno vuole partire per prima. Ma è bello questo perché vuol dire che comunque c'è tanta voglia e questo è positivo. Ecco, dove si partirà? Abbiamo scelto il numero dei positivi in percentuale degli ultimi tre giorni, fatte eccezioni alle case di riposo, quindi è chiaro che se un territorio negli ultimi tre giorni si è visto un numero crescente di positivi, allora forse è il caso che lì cominciamo per prima, perché lì ci potrebbe essere un focolaio che si sta sviluppando, ma poi partiremo tutti, insomma non c'è fretta, è importante prepararsi bene, ripeto, distribuire bene sul territorio i punti, si possono utilizzare anche il drive-in e poi noi saremo pronti per quanto di nostra competenza, ripeto, con le figure sanitarie, due figure sanitarie per ogni punto, quindi se in una palestra ci sono cinque punti, cinque file, per ogni fila ci saranno due sanitari che processeranno, faranno il tampone e processeranno, davvero, insisto ancora una volta su questo, invito i cittadini, l'ho fatto benissimo ieri il direttore generale di Giosia, io insisto su questo aspetto, davvero partecipate, siate presenti, venite, non c'è da aver paura, è importante sapere la propria condizione di negativo o di positivo asintomatico, è importante perché, ripeto, può salvare una vita e allora oggi è davvero importante, sono tanti ragazzi giovani, questa volta anche l'età media è scesa un po'. Ecco, tra l'altro sì, l'età media di chi prende il Covid è scesa, ma anche dei ricoverati, ma anche prima stava parlando di chi ha malattie pregresse, però abbiamo visto dei casi di chi ha preso il Covid, per esempio, che non aveva e che comunque l'ha avuto in forma grave, addirittura casi mortali, pur non avendo malattie pregresse. Ci sono pochi, grazie a Dio, si contano sulle dita di una mano, però ci sono, ci sono dei casi di ragazzi anche giovani che hanno preso il Covid, si sono subito aggravati e questo ci dispiace, stiamo facendo di tutto, ma insomma, allora è chiaro che le condizioni, le comorbidità, tipo ripeto, ho detto il diabete, la pressione alta, l'obesità e altre condizioni, soprattutto per i respiratori, non aiutano, contribuiscono, però purtroppo abbiamo visto anche in ragazzi giovani senza nessuna comorbidità avere un'evoluzione davvero rapida e anche inaspettata. Perciò chi ha sottovalutato questa malattia, ancora continua a sottovalutarla, non si rende conto che invece questi poi sono i casi, questi sono i numeri. Questa malattia non va sottovalutata, ecco perché bisogna partecipare, anche per questo bisogna partecipare allo screening, non va sottovalutata perché è una malattia che si può comportare con un semplice raffreddore, però ti può dare una polmonite che ti può portare anche purtroppo a morte, quindi assolutamente non va sottovalutata, bisogna rispettare quello che ci viene detto, anche se qualche volta ci può sembrare assurdo, perché su alcune decisioni del governo potrebbero essere anche discutibili, però io dico sempre che chi ha il potere decisionale poi prende decisione, è sempre difficile all'ultimo momento, io l'ho fatto per tanti anni e quindi qualcuno poi la deve prendere la decisione, magari alcune cose forse potevano essere, come dire, messe diversamente, però su questo io credo che non bisogna criticare, è un momento difficile, grazie a Dio speriamo che ci stiamo avviando, i dati poi ci confortano, però venite allo screening, torneremo sull'argomento, vi faremo sapere il giorno in cui siamo in una cittadina piuttosto che in un'altra ed è importante fare percentuali di adesione alte perché più persone fanno il tampone, più abbiamo la possibilità di scoprire pazienti Covid positivi e asintomatici che non sanno di avere il Covid, vanno in giro e infettano chissà quante altre persone. Esatto, un po' quel è il problema, quindi è proprio chi sta in salute o chi pensa di stare in salute, quindi non ha febbre in questi giorni, non ha febbre, proprio chi sta in salute deve farlo. Sì sì, l'ho detto prima, quali sono le categorie che non devono partecipare, però tutti quelli che invece possono partecipare devono venire, ci saranno anche drive-in sul territorio, insomma ogni sindaco si sta organizzando, si sta organizzando, ha vicino la protezione civile che gli darà una mano, però sicuramente la macchina organizzativa è imponente ed è, insomma non è facile organizzare. No, infatti non è facile, partirà anche un battagio mediatico su questo, che dire, siamo alle battute finali, quindi comunque poi, allora questo esperimento tra l'altro vogliamo ricordare, è stato fatto a Bolzano per primo, e poi arriva l'Abruzzo. Sì, è stato fatto a Bolzano, poi il presidente Massilio lo ha voluto, diciamo, fortemente anche in Abruzzo, siamo partiti con l'Aquila, è partita con l'Aquila, adesso toccherà terra, poi vedremo, poi c'è il Natale, quindi magari si vedrà, vediamo anche come va, qual è l'andamento del virus, però potrebbe essere stessa tutta l'Abruzzo. Ecco, chi vi aspettate, sì, si era anche detto questo, di essendere tutto l'Abruzzo, chi vi aspettate adesso al Natale, comunque perché un'idea ve la siete fatta sull'andamento? Insomma, io adesso, meno male che siamo tornati in zona arancione, io credo che, insomma, torneremo anche in zona gialla. Ha fatto bene, per quello che è il mio semplice pensiero, Marsilio, però non dobbiamo sicuramente abbassare la guardia, questo, non dobbiamo pensare che la guardia, diciamo, dobbiamo continuare ad utilizzare le mascherine, dobbiamo continuare ad utilizzare il gel, insomma, ripeto, tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, abbiamo fatto bene, continuiamo a fare. Sarà un Natale diverso, sarà un Natale dove ci saranno meno contatti e si può fare per una volta, guardiamo al futuro, insomma. Il vaccino arriverà comunque a gennaio, anche in Abruzzo, anche questo abbiamo avuto un test. Noi, sì, sì, noi ci siamo già, siamo stati già contattati dalla Regione e da alcuni per prepararci ai vaccini, gennaio dovrebbe essere il mese in cui si inizierà. Però sarete vaccinati voi operatori sanitari prima? Casi di riposo e operatori sanitari, prima inizialmente, poi si passerà la popolazione, però io credo che non è che passerà tanto dalla prima... Cioè, in primavera si sente di dire che forse saremo fuori da questo incubo. Lo vedremo perché, ripeto, questo adesso è un'attività che dipende anche dal Ministero della Salute, noi comunque ci stiamo preparando, nel momento in cui ci verrà chiesto di iniziare la campagna di vaccinazione, noi ci stiamo preparando. Anche perché una piccola data polemica, me la permette, con i vaccini anti-influenzali forse qualcosa non è andato per il verso giusto? No, non è vero, noi con i vaccini anti-influenzali siamo andati molto bene, noi abbiamo già tutti i vaccini che sono stati messi a disposizione abbiamo utilizzati, cosa che rispetto ai numeri dell'anno scorso abbiamo vaccinato il doppio delle persone, quindi la vaccinazione andava molto bene, hanno fatto bene i cittadini a vaccinarsi e quindi adesso sono arrivati altri vaccini che abbiamo dato anche ai medici di famiglia che così potranno aiutarti nella vaccinazione, siamo passati alle categorie ai bambini da 0 a 6 anni e alle categorie più deboli, quindi devo dire la vaccinazione a terra è andata bene, noi i vaccini li abbiamo avuti nei numeri che avevamo richiesto, quindi diciamo questo problema non c'è stato e continuano ad arrivare mano a mano che li stiamo richiedendo, quindi sulla vaccinazione anti-influenzale sta andando bene, tra l'altro si sente anche che adesso arriveranno nuovi test che differenziano i tipi di influenza dal coronavirus, qui voglio dire adesso la tecnologia ci verrà molto in aiuto, però ecco per far questo bisogna fare il test, ecco perché dico che intanto iniziamo con questo screening di massa che la regione ha messo in campo come primo screening, poi ce ne potranno essere altri e ne faremo sicuramente altri perché è importante anche... Ok, per il cittadino quindi bisognerà che il cittadino si rivolga, quindi i comuni, i sindaci faranno la loro parte ma sul sito della ASL ci saranno tutte le informazioni anche possibili. Ma guarda, coinvolgeremo su questo anche il sito della ASL, i medici di famiglia, le farmacie, il comune, quindi la possibilità di stamparsi il modulo per poi aderire. Se io vado in farmacia mi danno le informazioni. Noi assolutamente faremo in modo che questo diciamo che la comunicazione sia capillare perché ognuno deve poter apprendere quelle che sono diciamo così, quella che è la procedura e quindi poi insomma ecco partecipare e poi insomma ecco ripeto continuiamo su questa strada che non stiamo andando male, si parla di qualcosa che potrà venire, terza ondata, io intanto direi pensiamo a questa seconda ondata e affrontiamola come la stiamo affrontando, con lo stesso piglio, la stessa determinazione e la collaborazione che c'è, ripeto. c'è tanto lavoro dietro però ecco insomma alla fine poi i risultati arrivano, ci dispiace che insomma purtroppo c'è chi non ce l'ha fatta e insomma il pensiero va a loro, il direttore di Giosia su questo diciamo come dire è stato toccato veramente da vicino per la scomparsa del fratello, io l'ho vissuto un po' da vicino il direttore, davvero è una persona che pure in quei momenti ha continuato a fare il suo lavoro, il suo dovere perché ce ne ha bisogno della sua presenza, questo gli va riconosciuto e gli era riconosciuto anche nell'unità di crisi, davvero è stata una persona che è sempre presente, io sono contento di questo ruolo che sto ricoprendo anche per questo perché comunque è un direttore generale che è sempre sul pezzo e questo deve essere una garanzia ed è una garanzia anche per i cittadini. Bene, grazie a Maurizio Brucchi, direttore sanitario dell'ASL di Teramo, noi quindi parleremo ancora poi dello screening nei prossimi giorni perché si farà una campagna capillare come ha detto appunto Pocanzi il direttore sanitario in tutti i comuni della provincia di Teramo. Grazie ancora. Buonasera. E noi ci ritroveremo invece per un altro appuntamento con Dentro la Notizia, arrivederci.